Ben ritrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In apertura parliamo subito di cronaca e andiamo a Gorizia perché la squadra mobile diretta da Claudio Culotte, il dirigente della mobile appunto Isontina, ha fatto tre arresti ad Asti con tre persone che sarebbero responsabili di furti messi a segno tra Veneto, Friuli, Venezia e Giulia. Erano malviventi che si travestivano da poliziotti, falsi poliziotti. Da qui le indagini che hanno poi portato in gran parte del nord-est. Ma sentiamo il servizio di apertura. Si travestivano da addetti alle forze dell'ordine per mettere a segno furti e rapine a casa degli anziani. Sgominata dalla squadra mobile di Gorizia una banda di malviventi. Da mesi gli agenti diretti da Claudio Culotte, capo della mobile Isontina, stavano indagando sulla banda che riusciva a intrufolarsi nell'abitazione indossando divise simili alle forze di polizia. Uno stratagemma per riuscire a rovistare e rubare preziosi e denaro. Per mesi gli investigatori hanno cercato di fermare la banda anche con inseguimenti sul filo di 200 all'ora, purtroppo senza successo, almeno fino ad oggi. Le complesse indagini sono iniziate dopo una rapina commessa a Gorizia il 26 febbraio 2018 da sedicenti agenti di polizia che, sorpresi dall'anziana proprietaria a rubare nella sua abitazione, la minacciarono e quindi la derubarono dei beni di valore e della cassaforte sradicata dal muro. Allora i banditi fuggirono con un Audi A1 Sportback S1 di colore grigio chiaro da 231 cavalli che dalla registrazione degli impianti di videosorveglianza entrò a Gorizia alle 9.28 con una targa di matricolo. La stessa auto passò davanti alla telecamera con un'altra targa dopo essere arrivata a grado con a seguito due camper intestati ad altrettante donne appartenenti ad un gruppo di sinti piemontesi autori già di vari furti. La targa clonata riprodotta sull'Audio A1 risultò appartenere ad una vettura simile di colore bianco con tetto nero di un padovano posteggiata nella città del Santo, spesso trovata a fianco degli stessi camper. Il secondo episodio criminale avvenne il 3 maggio a Tabagnacco di Feletto Umberto dove l'anziana vittima subì il furto in casa da un uomo che si presentò dicendo di dover controllare il contatore del gas assieme ad un complice riuscendo a rubare dalla camera da letto denaro e preziosi in oro. Ne seguì la fuga con l'Audio A1 di colore grigio metallizzato che era arrivata a grado la sera precedente ma con altre targhe. Dopo quel furto l'auto fu intercettata dalla polizia ed eseguì un roccambolesco inseguimento nel quale per sfuggire la vettura attraversò diversi centri abitati arrivando a Porto Gruaro a 140 all'ora, evitando per un soffio anche la coltava di fermarla. Poco d'estante i banditi gettarono dai finestrini delle buste di nylon con dentro uno zaino, una smerigliatrice e dischi da taglio, strumenti di effrazione e ancora più interessante i capi di abbigliamento necessari dei falsi poliziotti con berretto, i gradi di sergente, una giubba con bottoni dorati, lo scudetto aeronautica militare e cucite sulle spalle due mostrine a quattro stelle dorate nonché un cinturone bianco. La fuga proseguì in autostrada dove l'Audi passò a 240 orari davanti a una pattuglia della stradale e fu trovata poi in un parcheggio vicino ad Asti con altre targhe e non più di colore grigio, questa volta bianca con il tettuccio nero grazie al car wrapping. Di fatto i malviventi riuscirono a camuffarla rimuovendone la pellicola. Da allora l'autovettura venne accantonata ma la sera del 23 luglio sfrecciò a Bibione a seguito dei soliti camper accompagnati questa volta anche da una Volkswagen Polo R6 di colore bianco da 253 cavalli. Nel corso dei servizi della squadra mobile di Gorizia gli è di Volkswagen dello stesso tipo. Il 24 luglio la Polo partì da Bibione con i ladri che misero a segno due furti a Pordenone e a Viano. Furono seguiti e quindi perquisiti insieme alla squadra mobile di Venezia dopo il loro rientro ai camper fermi a Bibione. Vennero così sequestrati 23.800 euro in contanti, preziosi, telefoni cellulari, ricetrasmittenti, torce elettriche, guanti e indumenti per il travisamento, clip per portatesserino e un tesserino con la dicitura Comandante di Polizia Andrea De Marchi. Gli agenti hanno anche trovato 487 lettere e numeri di colore nero adesivi usati per clonare le targhe e nonché una striccia adesiva per clonare la targa di una Volkswagen Polo intestata a una persona di seguito a tagliamento. Lì vicino furono rimanuti e sequestrati anche alcuni sacchi di colore nero nascosti tra la vegetazione sull'argine del fiume tagliamento. Al loro interno c'era uno zaino con dischi da taglio e la smerigliatrice angolare, una piede di porco, un leverino, una cacciavite prolunga elettrica, un dispositivo rilevatore di metalli e un berretto di tipo da marinaio con soggolo in cordino giallo. Dischi da taglio e zainetto identici a quelli recuperati a Porto Gruaro. Nella perquisizione domiciliare di uno dei tre fermati dello scorso 12 aprile, occultati nella stufa a legna, sono stati trovati gli stessi fogli plastificati, con riprodotto lo stemma della Repubblica Italiana, nelle dimensioni della targa interiore e posteriore dell'autoveicolo, le stesse lettere adesive di colore nero, due fotografie sul cartoncino riproducenti soggetti in divisa con il copricapo, tra cui lo stesso tipo di marinaio con stemma dorato, lo stesso tipo di zaino e una flex dello stesso tipo e marca di quelli sequestrati in precedenza. Ora sono in corso le indagini per capire se il trio sia autore di altri colpi analoghi commessi nel nord-est. Ora andiamo a Pordenone, parliamo di una banda, una banda dei Bancomat aveva messo a segno diversi colpi, finisce a processo e rischia 24 anni di carcere. Sentite. La banda dei Bancomat rischia oltre 24 anni di carcere. Tanto ha chiesto il PM Maria Grazia Zaina per i giostrai che due anni fa tentarono di far esplodere il Bancomat delle poste di Brugnera e della Veneto Banca di Albignasego. Il processo si sta celebrando con rito abbreviato davanti al GUP del Tribunale di Pordenone, Rodolfo Piccin. Giovedì è attesa la sentenza. Il PM ha concluso per un aumento di pena a due anni e 7 mila euro di multa in continuazione con una sentenza di treviso per Alan Cassol, 22enne di Fontanelle, figlio di Albano, rapinatore ucciso a Ponte di Nanto dal benzinaio Graziano Stacchio, e di quattro anni e 13 mila euro di multa per Kevin Bosco, 22enne di Corgo. Per Teddy Battistuti, trentenne di Trevignano, sono stati chiesti sei anni e sei mesi e 18 mila euro. Per Sonny Gabriel, 23enne di Rosà, quattro anni e otto mesi e 15 mila euro. Per le veronesi Pamela Gabrielli, 22enne, e Laila Cassol, rispettivamente, tre anni e 6 mila euro e quattro anni e 9 mila. Le difese ridimensionano le accuse e contestano il fatto che siano stati assimilati fatti successi nel Trevigiano e nel Pordenonese. Al Guppa hanno ricordato che a Cassol e Bosco non possono essere imputati fatti per i quali sono già stati giudicati. La banda era stata sbantellata dalla squadra mobile di Pordenone. Quando fu eseguita l'ordinanza di custodia cautelare, i quattro principali indagati erano già i domiciliari perché coinvolti in un'inchiesta parallela a Treviso. Per quanto riguarda il filone pordenonese, sono accusati di detenzione di Brugnera, un furto all'area di servizio Kuwait di Torre di Mosto, l'esplosione al Bancomat di Veneto Banca di Albignasego, furti di targhe, riciclaggio di auto e un tentato furto al pit stop di Istrana. E concentrandosi sul furto di un Alfa Romeo Giulia nella concessionaria Sina di Pordenone nell'aprile 2017, che i poliziotti agganciarono la banda. L'auto era stata ritrovata bruciata il giorno dopo, proprio nel Porto Guarese. Il 5 maggio, dalla Patriot Motors di Aviano, sparirono invece un SUV Volvo Targhe tedesche e la potente BMW M325, che la banda nascondeva in un box a Visna di Elauto, che poi ha permesso di seguire, grazie a un GPS, gli spostamenti del gruppo. A Trieste un Pullman, più due Pullman, che non rispettano il limite di velocità, arriva una maximulta da 1.450 euro, Pullman, che non fanno parte dell'azienda dei trasporti triestina, ma che arrivavano lì appunto con, a quanto pare, dei vacanzieri. Sentiamo. Tutto nasce dalle segnalazioni sui conducenti di bux extraurbani. La mattina presto, lungo la strada costiera e tutto il viale Miramare. La polizia locale ha predisposto un pattugliamento nel tratto indicato, fermando due bus a noleggio con conducente vicino alla stazione a fine corsa e dopo aver fatto scendere i passeggeri senza inutili disagi. Dalla verifica dei cronotachigrafi digitali è risultato che entrambi sul lungomare di barco l'avevano ottenuto una velocità di marcia nettamente superiore ai 50 km orari consentiti. Uno dei due conducenti ha pigiato l'acceleratore fino a 97 km orari. Il codice della strada, per questa violazione, prevede la sospensione della patente da 2 a 6 mesi e una sanzione da 1.450 euro da conciliare immediatamente. Leggermente minore la sanzione per il secondo conducente per aver toccato 86 km orari, 461 euro la sanzione. Nel complesso la pattuglia ha contestato ai conducenti di due pullman 15 violazioni, 13 per il mancato rispetto dei riposi giornalieri e settimanali e 2 per il superamento del limite di velocità per un totale di oltre 4.800 euro. Grave anche il versante punti, mentre un conducente ne ha persi ben 15, l'altro li ha persi tutti e dovrà fare la revisione della patente. Infine anche la società proprietaria dei mezzi è stata sanzionata per inosservanza delle disposizioni relative al riposo dei conducenti. I nostri servizi, i nostri live, li trovate sulla pagina Facebook di Media24. Ci fermiamo con questa edizione e torneremo con le altre con le prossime edizioni. Rimanete con noi. Alla prossima! Grazie! Grazie!